È una piccola cosa Presidente, però fatta con il cuore da tutti i Presidenti delle famiglie dei suoi migranti. Allora, a Gioacchino Bratti, Presidente dell'Associazione Bellonesi del Mondo, un pensiero e un ringraziamento per il prezioso lavoro svolto con competenza e passione in questi 12 anni. Le sue doti hanno reso grandi le nostre attività e il suo impegno non è mai mancato, soprattutto nei momenti di difficoltà. La sua esperienza ha portato concreti risultati all'ABN. Con stima e riconoscenza, le famiglie ex-seleganti. Grazie.